salve a tutti i giocatori e benvenuti nello speciale di halloween oggi andremo a vedere le carte più inquietanti e spaventose che abbiano mai fatto di yugi un po vanno anche secondo il mio gusto personale ovviamente e prima di iniziare come sempre mi invito a iscrivervi al nostro canale prima delle sempre aggiornati col mondo di yugi e non solo grazie mille partiamo jaradato l'inquietudine fatta a non so che cosa perché è una di quelle facce inquietantissime che il buon vecchio yugi ti dava profusione carte inquietanti ce n'erano tantissime ma sta jaradato con quella lingua di fuori alla rolling stones e il sorriso alla jogger l'occhio chiuso mezzo aperto è un qualcosa di veramente inquietante che bello noi avevamo queste carte da bambini questa che gioco lanceratato infartino tattico poi la grande e reprensibile non mi ricordo come si chiama come si chiama il gate dig che praticamente nel suo nel suo stomaco ha diversi demoni bellissimo altra cartina molto molto bellina molto fa lo stomaco cucito con la lingua di fuori il solito demoni zombie strano gli occhioni rossi proprio che ti dice vieni vieni che ti mangio e poi apro il sipario del mio stomaco per far vedere la collezione di mostri che mi sono pappato cioè ha una dimensione nel suo stomaco incredibile poi andiamo al re il primo re colui che comandava come andava prima di ades il nero re degli abissi un solito teschionino con un po più di pelle di carne però la sua artwork devo ammettere che è bellissima con questa sfera bianca che tiene vicino alla mano lui completamente in penombra si vede tutta la faccia e la mano con quelle unghie di 8 km che se per caso ti fa un grattino ti sventra l'anima veramente una carta secondo me iconica vabbè è il nemico principale di ades cioè sono gli acermi nemici veramente tanta roba e quindi dopo il nero re degli abissi la tredicesima tomba e pensavate ades eh no non l'ho messo ades sono andato proprio a cercare altra roba la tredicesima tomba praticamente hanno preso hanno preso uno scheletro random dell'armata delle tenebre e l'hanno un po abbronzato gli hanno dato un pochino di carbonella ed è diventato tutto scuro comunque è uno di quegli appunto scheletri alla proprio Sam Raimi mi sembra proprio uno degli alla Sam Raimi di quei film lì veramente molto molto figo e lo apprezzo tantissimo poi cambiamo un po' genere con il warm zero questa palla gigantesca orribile che però sovrasse una città tutta scura e devastata da quel senso di inquietudine sembra tipo un blob più schifoso alla piccoli brividi che pervade una città intera veramente molto molto figo e andiamo con un artwork che io in realtà non capisco allora cioè non capisco adesso andiamo a vedere il pomodoro mistico nella nostra artwork perché hanno censurato quella nipponica che era meno terrificante di quella che poi c'è giunta a noi perché quello alla fine era un pomodoro che sembrava una mezza specie di zucca di Halloween ok questo è molto più inquietante perché è la solita faccetta tipica del vecchio yoga sembra un pomodoro più realistico con quel ghigno sempre con la lingua viola tutte le lingue viole ce l'hanno ma comunque è molto più inquietante della versione OCG che poi hanno censurato questa cosa non la comprenderò mai il blood simile a quell'altro dei primi sempre nello stomaco che inghiottano roba soltanto che questa facciona inquietante che tutta streminzita dal fatto che non entra in quel corpicino con la testa in alto in penombra si vedono soltanto gli occhi rossi è veramente inquietante ma più che altro è inquietante appunto la faccetta dentro tutta mamma mia non so bene come spiegarvelo però è abbastanza inquietante come carta poi una carta vecchissima il demone obbediente definitivo il 3500-3000 che ci ha fatto sognare da bambini perché è un livello 10 o 3500 oh mio dio un demone di quelli proprio vecchi cazzuti tra virgolette tradizionali perché sembra proprio uno di quei demoni un classico diavolo mezzo ocre mezzo diavolo un po' tra tradizione nostrana e orientale poi vabbè fatto veramente bene con quella mano che viene a prenderti tutto incazzato lui non ha il ghigno stavolta 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 ce l'ha al contrario lui è proprio incazzato non ride con quelle corna con l'alone tutto l'effetto l'effetto è veramente fighissimo una delle mie carte preferite lo stregone dei perché scrivere dannati a quanto pare non andava bene in italiato infatti lo stregone dei e poi niente lo stregone dei dannati questo stregone è praticamente uno zombie con tutte le anime cioè una carta del genere adesso i yuki è impensabile è quasi impensabile abbiamo tutte le teste dei dannati quello che urla a destra a blu tutti i disperati no veramente questo stregone scheletrico che è praticamente una mummia fantastico se fosse apparso nel primo anime questo si sarebbe anche se già non è questo per effetto anche se già non è questo si sarebbe pompato di tutta la potenza delle carte del cimitero sarebbe stata una delle carte più forti del primo anime di yuki però è bellissimo l'altra carta che io vado vado adoro ed è inquietantissima e andiamo le prime due le prime due che una è necrovolto vabbè come potevamo non mettere necrovolto già il fatto che ha le sembianze di un bambino e i bambini sono inquietanti il bambino che è inquietante che sembra una bambola inquietante che è anche zombificata da una mezza specie di alien che gli esce fuori con i tentacoli a forma di cthulhu sono in extra bit è inquietantissimo cioè parti così è inquietantissimo e più gli dando quell'aria vecchio stile che appunto ti gela il sangue e va benissimo sembra la bamboletta di paura oscura paura oscura che noi abbiamo messo grande assente ma io ho preferito mettere queste comunque necrovolto si becca la medaglia d'argento la medaglia d'oro va alla carta più disgustosa che io abbia mai visto Yu-Gi-Oh l'insetto parassita ma l'artwork ovviamente OCG perché l'artwork OCG dell'insetto che esce dalla testa del cavaliere soldato quello che volete è faribrezzo ma nel senso buono faribrezzo proprio perché ti vedi disgusto l'orrore cioè questo hanno fatto veramente bene alle valla perché se io l'avessi vista il ragazzino sarei tipo traumi incredibili voi dite vabbè ma che è a parte che io però da ragazzino vedo una roba del genere è un pochino di impressiona questo insetto che esce con tutti i tentacoli mamma mia mamma mia dalla bocca dagli occhi dal naso da orecchio tutto da o zigomo cioè qualcosa di veramente veramente schifoso nel senso buono dell'horror qui dico che hanno fatto bene un pochino a tappare perché mi immagino quelli che censurano vedono una roba del genere no aspetta un momento abbiamo abbiamo tolto dannati dal testo di una carta questo che facciamo non la non la censuriamo un pochino aspetta aspetta stiamo calmi e quindi come medagliador non poteva non mancare l'insetto parassita detto questo ragazzi fatemi sapere voi delle vostre carte orrorifiche quelle che magari vi hanno incuto più timore per oggi è tutto salvo sempre i soliti aggiornamenti noi come sempre ci vediamo nel prossimo video un buono allumino a tutti e appunto un saluto a tutti grazie a tutti